Messina ospita l'Assemblea Generale del Progetto Urbanite insieme alle città di Helsinki, Bilbao ed Amsterdam. Oggi analizzeremo le particolari use case per la gestione del traffico urbano con le nostre telecamere e analizzeremo insieme ai nostri partner quelle che sono le migliori pratiche in un'ottica di scenari evolutivi, di progetti e programmi di investimento. Messina si posiziona sempre più nello scenario internazionale, nella gestione di progetti e di programmi di investimento nell'ambito della transizione digitale e della transizione ecologica e l'8 novembre saremo a Bruxelles per presentare nell'ambito del programma York insieme alla città indiana un programma di investimenti per la gestione delle catastrofi naturali in ottica digitale e evolutiva. Quindi siamo particolarmente orgogliosi di annunciare che la delegazione indiana verrà a visitarci a Messina per approfondire insieme a noi quelli che sono possibili programmi e temi di investimento sul territorio. Grazie. Grazie.